Shalom, shalom, shalom. Eccomi qui per la continuazione della lezione precedente riguardo la rincanazione. Questa lezione sarà basata sul figlio del padre che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù, ma il suo nome vero è Yehawah Shai. In questa lezione attraverso il potere del Yehawah Ba Hashem Yehawah Shai vi farò vedere che il figlio del padre era la stessa persona di Salomone e Isacco. Erano le stesse persone. E' venuto rincannandosi. Ok? Ma prima di iniziare vorrei dare tutti loro di adorazione al padre Yehawah nel nome di suo figlio, il nostro rendentore, nostro re e salvatore, Yehawah Shai. E miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone per avermi insegnato questa verità e pace alla casa di Israele a coloro che cercano con sincerità la verità. Inizio questa lezione leggendo dal libro di Matteo 22 che baseremo la maggior parte di questa lezione qui e inizio leggendo dal versetto 41 che dice Ora essendo i farisei raunati, anzi andiamo a vedere una versione più semplice da capire 26 La nuova riveduta Scusatemi Ok, 2006 E si legge Essendo i farisei riuniti, Yehawah Shai li interrogo dicendo Che cosa pensate del Messia? Di chi è figlio? Essi risposero di Davide ed è lì a loro Come mai dunque Davide, ispirato dallo Spirito, lo chiama Signore dicendo Il Signore ha detto al mio Signore Siedi alla mia destra Finché io abbia messo i tuoi nemici sotto i tuoi piedi Sì, spero che riuscite a capire questo versetto qui Allora, i farisei erano riuniti Yehawah Shai li ha interrogato Dicendo Cosa pensate Del Messia? Perdonatemi Che la parola Cristo Sarebbe messia E dice Cosa pensate del Messia? Di che Sarebbe il figlio di chi? È la domanda Ed essi gli risposero Che è il figlio di Davide E lui a loro Come mai dunque Davide, ispirato dallo Spirito, lo chiama Signore? Dicendo Il Signore ha detto al mio Signore Siedi alla mia destra Finché io abbia messo i tuoi nemici sotto i tuoi piedi Perciò dice Ma come mai Davide Se lui è figlio di Davide Come mai Davide lo ha chiamato Signore? Dicendo Il Signore ha detto al mio Signore Riferendo al suo figlio Signore Questa è la domanda Che Yahawashai ha fatto A questi farisei E andiamo a vedere Se dunque Davide lo chiama Signore Come può essere suo figlio? Ok? E nessuno poteva replicargli parola Da quel giorno Nessuno ha di più interrogarlo Avete visto? Cioè Io Ribadisco sempre Questa conoscenza è data a pochi Non è data a tutti A coloro che lo capiranno Lo spirito Lo spirito La Ruka Kodash Nell'imbraico antico Si dice La Ruka Kodash Le darà la conoscenza Ma la conoscenza viene attraverso Prima il timore Verso il padre Ok? Quando uno comincia ad avere timore Dei padre Vorrebbe conoscere più su di lui E comincerà ad esibare i comandamenti Come dice Comincerà ad usare i nomi giusti E non i nomi mondani Per oscurare La sua identità Ok? E da qui viene La conoscenza Perciò andiamo A vedere bene Questo libro Prima di tutto Yahweh Shaili ha detto Davide Ispirato dallo spirito Lo chiama Signore Dicendo Il Signore ha detto Al mio Signore Siedi Alla mia destra Finché io abbia messo I tuoi nemici Sotto I tuoi piedi Andiamo a vedere Dove Davide Ha detto Questa cosa qui E Si trova Nel libro Di Salmi 110 Nel primo versetto Allora Vi ricordo Che il libro di Salmi È scritto da Davide Ok? E questa È la parola Che Yahweh Ci ha rivolto Ai farisei Salmo di Davide Il Signore Il Signore ha detto Al mio Signore Siedi Alla mia destra Finché io abbia fatto Dei tuoi nemici Lo sgabbello Dei tuoi piedi Ok? Perciò Perdonatemi Lui qui riferiva Suo figlio Salomone Salomone Sarebbe Il figlio Di Davide Come sappiamo Tutti Ora torniamo Al libro Di Matteo Perciò Abbiamo visto Che davvero Davide Ha detto Questo Ok? Riferendo a suo figlio Signore E Yahweh Le chiede Ma come mai Lui riferisce Se è suo figlio Come mai Lo riferisce Signore E I farisei Non potevano Risponderli Non sapevano Erano Previ Di parole Erano senza parole Non sapevano Cosa risponderli E da quel giorno In poi Non Non hanno più Interrogato Eccoci ora Andiamo A leggere Il libro Di Ati Ati degli apostoli Capitolo 2 Leggiamo Dal 29 E ricordiamoci Sempre Che In questa lezione Voglio Portarvi fuori La prova Che Yahweh Shai È la stessa Persona È la stessa Yahweh Shai Salomone E Isacco Sono le stesse Persone È la stessa Anima Che veniva Rincarnata Ok E qui Leggiamo Dal versetto 29 Che dice Fratello Fratelli Si può Ben dire Liberamente Riguardo A patriarca Davide Che Erli morì E fu Sepolto E la sua Tomba È ancora Al giorno D'oggi Tra di noi Erli dunque Essendo Profeta E sapendo Che Yahweh Gli aveva Promesso Con giuramento Che Suo Trono Avrebbe Fatto Sedere Uno Dei Suoi Discendenti Previde La risurrezione Di Yahweh Shai E ne Parlò Dicendo Che Non sarebbe Stato Lasciato Nel Sogiorno Dei Morti E Che La sua Carne Non Avrebbe Subito La Decomposizione Ok Spero Adesso Andiamo a Vedere Un'altra Versione Magari Si riuscirà A capire Il meglio Leggiamo Dal 94 Ok E torno Dietro Leggendo Fratelli Si può Ben dire Liberamente Riguardo A Patria Cadavide Che E E Morì E Fu Sepolto E La sua Tomba È Ancora Al giorno D'oggi Tra noi E Dunque Essendo Profeta E Sapendo Che Yahweh Gli Aveva Promesso Con Giuramento Che Suo Torno Avrebbe Fatto Sedere Uno Dei Suoi Discendenti Ok Avete Visto Previde La Risurizione Di Yahweh Che Ne Parlò Dicendo Che Non Sarebbe Stato Lasciato Nel Sogiorno Dei Morti Andiamo A Vedere Un'altra Versione Così Potete Capire Bene Il Messaggio Qui Scusatemi Uomini Uomini Fratelli Ben Può Liberamente Dirvi Sì Intorno Al Patriaca Darvide Che Eli Morì E Fu Sepolto La Sua Tomba È Ancora Al Di Oggi Fra Noi E Dunque Essendo Profeta E Sapendo Che Yahweh Li Avea Con Giuramento Promesso Che Sul Suo Trono Avrebbe Fatto Sedere Uno Dei Suoi Discendenti Antivedendola Parlò Della Resurrezione Di Yahweh Dicendo Che Non Sarebbe Stato Lasciato Nell'Hades Ok Qui Punto Che Voglio Farvi Sapere Che Questi Sono Gli Apostoli Che Parlavano Ok E Dicevano Che Il Padre Aveva Promesso Congiurato A Davide Che Suo Trono Sarebbe Stato Il Suo Figlio Ok Un Suo Progene Ok Che Alla Fine Davide Suo Figlio Era Salomone Ok E Questo Dovete Capire Che Salomone È La Stessa Persona Come Yahweh Shai Ora Vi Porto La Vera Prova Che Vi Farà Capire Bene Andiamo A Secondo Samuele Capitolo 7 Leggiamo Da Versetto 12 Allora E Saranno Compiuti E Tu Riposerai Con I Tuoi Padri Io Innalzerò Al Trono Dopo Di Te La Tua Discendenza Il Figlio Che Sarà Uscito Da Te E Stabilirò Saldamente Il Suo Regno E Costruirà Una Casa Al Mio Nome E Io Renderò Stabile Per Sempre Il Trono Del Suo Regno Avete Visto Io Renderò Stabile Per Sempre Il Trono Del Suo Regno La Domanda È Il Figlio Di Davide Era Salomone Salomone Ha Regnato In Circa 40 44 Anni Ok Quello Non È Per Sempre Il Padre Non Mente Le Sue Parole Verranno Ok Perci Il Padre Non Può Mentire Si Dice Che Il Suo Regno Sarà Per Sempre Ok Per Sempre Ok Ma Salomone Ha Solo Negli Attos All'incirca 40 Anni Che Abbiamo Detto Continuiamo A Leggere Io Sarò Per Lui Un Padre E Egli Sarà Mio Figlio Ritorna Qualcosa Questo È Salomone Ok Il Padre Sta Dicendo Che Lui Il Figlio Di Davide Sarà Suo Figlio E Lui Sarà Il Suo Padre Ok E Continuiamo A Leggere E Se Fa Del Male Lo Castigherò Con Vergate Da Uomini E Con Colpi Da Figli Di Uomini Io Vi Faccio Una Domanda Salomone Ha Avuto Delle Posizioni Di Questo Ha Avuto Dei Colpi Di Figli Di Uomini E Vi Ricordo Che Comunque Nei Suoi Ultimi Anni Il Suo Cuore È Stato Allontanato Dal Padre Perché I Suoi Concubini L'hanno Portato A Venerare Altri Dei Ok Perciò La Fine Di Salomone Non Il Suo Cuore Non Era Verso Il Padre Ha Fatto Il Peccato Che Comunque Vediamo Non Troviamo Nessuna 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 Scritta Che Lui È Stato Castigato Perciò Lui Non È Stato Castigato E Come Vi Dicevo Nel Video Precedente Quando Moriamo Come Viviamo La Nostra Vita Se Siamo Stati Malvagi Abbiamo Fatto Delle Cose Quando Torniamo Di Nuovo Pagheremo Tutto Quello Che Abbiamo Fatto Nella Vita Precedente Eh Sì E Qui Salomone È La Stessa Persona Di Di Yaha Shai Il Figlio Del Padre Proprio Lui Poi Si è Incarnita Ed è Tornato Come Figlio Del Padre Yaha Come È Tornato Come Yaha Shai Che In Mondo L'ignoranza Chiama Gesù Ok E Là Ha Dovuto Pagare I peccati Che Ha Fatto Quando Era Salomone Ok E Infatti Lui È Stato Castigato Con Vergate Da Uomini E Con Colpi Da Figli Di Uomini Ok Andiamo A Vedere Un Altro Un Altro Versione Magari Ecco Io Sarò Suo Padre Se Peccherà Lo Castigherò Per Mezzo Di Altri Uomini Come Un Padre Castiga Il Figlio Ma Non Dinegherò Mai La Mia Fidelità Come Invece Ho Fatto Con Saú Ok E Qui Sarà Lui A Costruire Una Casa Per Il Mio Nome E Io Li Assicurerò Per Sempre Una Dinastia Questa È Un Po Più Un Po Più Complicata Ma E Non Va Direttamente Vabbè Prendiamo Questo Qui E Ricostruirà Una Casa Al Mio Nome E Io Renderò Stabile Per Sempre Il Trono Del Suo Regno E E Sempre Yahuasha Salomone Non Ha Regnato Per Sempre E Quando È Tornato Come Figlio Del Padre È Stato Crucifisso Ha Pagato Per Quello Che Ha Fatto Nella Vita Precedente E Poi È Stato Il Sacrificio Ha Vissuto Una Vita Perfetta Che È Stato Il Sacrificio Per Liberare La Casa D'Israele Ok Ma Non Ha Regnato Per Sempre Ma Il Suo Ritorno Di Nuovo Lui Tornerà Di Nuovo A Breve E Quando Tornerà Il Suo Regno Sarà Stabilito Per Sempre Ed È Questo Che Vuol Dire Ok E Castiguerò Convergate Da Uomini E Con Colpi Da Figli Di Uomini Ma La Mia Grazia Non Si Ritirerà Da Lui E Questo Si Parlava Di Quando Lui Portava La Croce Su Golgotha Prima Di Essere Crocifisso Ha Preso Tutte Le Vergate Blah Blah Ok E Nonostante Tutto Questo La Grazia Del Padre Era Sempre Con Lui Ok Come Si Ritirato Da Saúl Che Io Ho Rimosso Davanti A Te Saúl Era Quello Che Regnava Prima E Questa È La Similitudine Del Regno Che C'è Adesso Dei Figli Di Esau Oh Guardate I Nomi Come Suonano Simili I Figli Di Esau Sono I Padroni Di Questo Regno Questo Regno Verrà Preso Da Loro E Verrà Dato Al Figlio Del Padre Yahweh Che Sarà La Guida Dei La Tua Casa Il Tuo Regno Saranno Saldi Per Sempre Davanti A Te Il Tuo Trono Sarà Reso Stabile Per Sempre Il Padre Non mente Ricordiamoci Perciò Lui Dice Il Suo Regno Sarà Stabile Per Sempre E Per Certo Salomone Non ha Regnato Per Sempre Il Titolo No All'inizio Avevo Detto Che Yahweh Che Il Mondo Da Ignoranza Chiama Gesù E Salomone Isacco Sono Stesse Persone Ora Andrò A tirarvi Fuori L'ultima Prova E Spero Che Riuscite A capire Questo Questa Cosa Qui Qui Si Trova Su Primo Libro Di Matteo Ok State Attenti Qui Genealogia Di Yahweh Shai Ok Il Messia Figlio Di Davide Figlio Di Abramo Ok Questo Punto Qui È Forte La Sapienza Di Questo Versetto Uno È Dato A Pochi Genealogia Di Yahweh Shai Messia Figlio Di Davide Chi Era Figlio Di Davide Salomone Figlio Di Abramo Chi Era Figlio Di Abramo Isacco E Che Cosa Ha Fatto Abramo Ha Fatto La Similitudine Di Quello Che Ha Fatto Padre Vi Ricordate Quando Abramo È Stato Chiesto Di Sacrificare Isacco Vi Ricordate Eh Sì Isacco È La Stessa Persona Come Yahweh Shai E Salomone Ok E Abramo Abramo Genera Isacco Isacco Genera Giacobbe Giacobbe Genera Giuda Comunque Questo Primo Versetto È Potente E Vi Fa Capire Che Lui È Stato La Stessa Persona Essendo Il Figlio Di Davide E Figlio Di Abramo Ok Si Ha Rincarnato Come Il Figlio Del Padre Conosciuto Come Yahweh Shai Che In Mondo Dall'ignoranza Chiama Gesù Poi Ha Pagato I Peccati Che Ha Fatto Quando Era Salomone Ed È Stato Anche Il Sacrificio Perfetto Per Rendere Liberi I Figli Di Israele Ed È Stato Crucifisso Ok Ma Tornerà Di Nuovo Il Suo Regno Sarà Per Sempre Detto Questo Spero Spero Che Siete Stati Edificati Spero Che Il Messaggio Vi È Arrivato Ok E Detto Questo Voglio Dare Tutti Lodi Al Padre Yahweh Nel Nome Di Suo Figlio Yahweh Shai Nostro Re Rendentore Nostro Salvatore E Doppio Onori Agli Apostoli E Anziani Della Great Milestone Per Avermi Insegnato Questa Verità Pace Alla Casa Israele A Coloro Che Cercano La Verità Con Sincerità E Dico Shalom Alla Prossima